Un ciao grande a tutti, noi oggi facciamo Io Ballo e ci invitiamo tutti. Io ho 33 anni. E te li porti benissimo. Grazie, comunque sì, riesco di dormire il massimo possibile, però toglie un po' le occhiaie, però è un po' difficile, non riesco a dormire presto perché ho tanto da fare. In senso, come devo chiamare, a casa, a Cuba, in Brasile, allora il fuso orario non mi lascia a dormire presto. A Roma sono da, anche lavoro con Maria Di Filippi, una trasmissione da sei anni. Per me la danza comunque è quello che appartiene, per me è quello di ogni giorno, vuol dire, mi dici come ho anche una maniera di vivere, è una maniera di esprimermi, vuol dire, ballare per me è, vuol dire, muovermi, di fare vedere. Arrivare a raggiungere esattamente lo che è la danza è difficile, perché comunque ogni giorno hai da imparare tante cose. Grazie. 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 Grazie.